Le conferenze della Galleria Principe Il solstizio, che vuol dire il sole che sta fermo, rispecchia una mitologia che poi si trova in tutte le culture, cioè il terrore che il sole d'inverno, così basso che sta sempre fermo, che non si muove più, si innalza alla fine del nonno, che il sole non sorgesse più. Quindi per esempio il culto di Iside, e anche nei Saturnali c'è un mito simile, parla della De Iside che con i suoi poteri magici sblocca il corso dell'ora. Questo invece è quello che succede nel 21 aprile, che è il Natale di Roma. Sono fenomeni che comunque durano poco, pochi minuti. Sembra molto giù, no? Sembra molto giù, però quando c'è l'ora legale diventa Roma.